L'accordo raggiunto sulla Brexit sembra soddisfare l'Unione Europea, mentre fa infuriare i sostenitori della Brexit a Londra. Perché? Ecco i punti chiave. Il testo non parla di unione doganale, ma il Regno Unito farebbe parte di un territorio doganale unico fino alla fine del periodo di transizione previsto per il 31 dicembre 2020. Il Regno Unito rimarrà in un'unione doganale con l'Unione Europea indefinitivamente se non verrà raggiunto un nuovo accordo commerciale prima di quella data. Questa misura è stata accettata per evitare un confine fisico in Irlanda ed è la cosiddetta clausola di garanzia di protezione irlandese. Il punto critico per i sostenitori della Brexit è che il Regno Unito non potrà ritirarsi unilateralmente dalla clausola di protezione. Un panel arbitrale indipendente composto da cinque persone, due per parte del Regno Unito, due per parte dell'Unione Europea e una persona indipendente, giudicherà se e quando questa clausola potrà cessare. Una volta che il Regno Unito avrà lasciato ufficialmente l'Unione Europea il 29 marzo 2019, entrambe le parti hanno convenuto che il Regno Unito entrerà in un periodo di transizione che potrà essere steso fino a dopo il 31 dicembre 2020. Il documento però non fornisce dettagli circa fino a quando potrà essere steso questo periodo. I cittadini europei che vivono nel Regno Unito e i britannici che vivono nell'Unione Europea manterranno i loro diritti e saranno in grado di vivere con le loro famiglie, ma dovranno presentare una richiesta formale per rimanere nel paese. I cittadini britannici all'estero dovranno ripresentare probabilmente la domanda per il loro status di residenza. La libertà di circolazione terminerà dopo il periodo di transizione e sarà sostituita da un sistema di immigrazione basato sulle competenze. Gli stati membri dell'Unione Europea hanno anche spinto per avere un accesso alle acque costiere del Regno Unito in cambio dell'accettazione di un unico territorio doganale con la Gran Bretagna. Il testo si propone di stabilire un nuovo accordo di pesca che definisca l'accesso alle acque e le quote per le future possibilità di pesca dopo il periodo di transizione.